ciao benvenuto all'autoplay di oggi ti insegnerò questo riff che hai appena ascoltato in double thumb ricordo sempre che ho il mio metodo ebook sul double thumb c'è quello tradizionale dove c'è solo pdf e poi c'è neanche uno nuovo dove ho appunto inserito dei video e un ebook interattivo quindi dentro oltre agli audio e le partiture ci sono anche video dove insegno nota per nota piano tutto qui partiamo con il pollice in giù noi ci posizioniamo sul tasto 3 della corda di re quindi su un ipotetico fa ma la prima nota viene fatta col pollice in giù però è una ghost note perché dopo andrò in hammer a suonare il fa questa ghost note viene presa sull'ultimo sedicesimo prima del battere quindi il battere e questa nota qua il fa dopo la vado a doppiare andando su con con il pollice e dopo strappo sulla corda di sol una ghost note 1 2 3 4 questa idea vado poi a portarla su diversi su diverse note la prima è un fa poi avrò il sol poi sul mi e poi la bemolle fa sol mi la bemolle il fa il tasto 3 corda di re il sol tasto 5 sempre corda di re sono sempre le prime note sono sempre sulle corde di re tasto 2 e poi tasto 6 è importante andarci con la stessa ditteggiatura perché in questo movimento potrò mantenere il gesto e portarlo sui diversi accordi lavorerò sempre sulle corde di re e di sol per lo strappato ghost all'inizio bisogna partire molto molto lenti per meccanizzare il movimento poi pian pianino lo si porterà quando è meccanizzato diventerà più naturale benissimo spero che questo video ti abbia incuriosito su questa tecnica double thumb che è molto e molto interessante molto divertente da da studiare ci vediamo allora al al prossimo video se ti va condividi metti un mi piace o lasciami un commento ciao al prossimo se ti va condividi metti un po' di più Grazie a tutti.